Venite con me a Praga. La mattina ci siamo svegliati veramente presto perché avevamo il primissimo volo che partiva da Malpensa in direzione di Praga. Una volta arrivati siamo andati a prendere il bus, il numero 119, che ci portava direttamente a un punto dove c'era il tram o la metro che ti porta nella città vecchia. Soprattutto ci siamo resi conto che fuori faceva veramente freddo ed era pieno di neve. Abbiamo iniziato a girare la città. Siamo andati a vedere come primissima cosa l'orologio astronomico, che personalmente l'ho reputato bellissimo. E siccome avevamo anche un po' di fame, come ormai era metà mattina, siamo andati a prendere il loro dolce tipico, mettendoci su anche un po' di fragole, panna oppure gelato, un po' di tutto, ecco. Dopo siamo andati verso il Ponte Vecchio, dove si possono vedere tantissime persone che lo attraversano in una giornata. Perché volevamo andare a vedere come prima cosa la via più stretta, però siamo arrivati lì che è in fase di restauro, quindi chiusa. Per la disperazione siamo andati a dare da mangiare un po' agli animali. Accanto abbiamo trovato il museo di Francafcaf, dove si possono vedere due persone che si muovono facendo la pipì, ecco. Ci siamo diretti verso la parte più alta, cioè il castello, dove c'è anche la chiesa, molto particolare da vedere, molto bella anche. Successivamente siamo andati anche a un ristorante che abbiamo trovato lì vicino e per fortuna abbiamo trovato anche un posto che faceva piatti tipici, anche che non costava tanto, ecco. Eravamo a Praga, quindi non potevamo non prendere la birra e abbiamo scelto di mangiare il goulash, che era veramente buono, soprattutto poi ti scaldava con il freddo che faceva fuori. Successivamente siamo andati a vedere il muro di John Lennon, dove c'erano tantissime persone. E per andare a vedere la riproduzione della Torre Enfell siamo andati con la funivia, l'abbiamo pagata 3 euro a corsa. Siamo scese a piedi e siamo andati a vedere questo monumento che rappresentava la disperazione delle persone. Come ultima cosa, prima di andare in hotel a riposarci un pochettino, siamo andati a vedere la famosissima Torre di Libri, dove abbiamo fatto 40 minuti di coda, perché non è anche sempre aperta, ma ci sono degli orari. Siamo andati poi in hotel, dove abbiamo fatto il check-in, ci siamo un attimo sistemati e alla sera siamo usciti, siamo andati a vedere un museo un po' piccante. E per concludere la serata, in dolcezza, abbiamo preso il dolce tipico.